Musica Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Musica Cari amici, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6 Nel corso di questa domenica 4 settembre si prospetta un graduale miglioramento del tempo a partire dai settori più occidentali dal nord-ovest mentre centro e sud faranno ancora i conti con un po' di instabilità ovvero dei rovesci al mattino e anche dei temporali nel pomeriggio per lo più nei settori interni e montuosi questo per effetto di aria un po' più instabile, fresca in movimento da ovest verso est che quindi attraverserà tutto il Mediterraneo per poi lasciar spazio all'alta pressione con l'avvio della nuova settimana Per quanto riguarda l'Abruzzo, un weekend ancora abbastanza grigio, instabile con tanti nubi, soprattutto nella seconda parte della giornata e possibilità di rovesci sparsi qualche temporale nei settori interni vedete le aree interne montuose, i settori più coinvolti ma non escludiamo sconfinamenti verso i tratti costieri soprattutto durante il pomeriggio fenomeni abbastanza irregolari di breve durata temperature lieve e calo, massime non oltre i 26-27 gradi clima molto gradevole di notte e all'alba con questo è tutto, grazie per l'attenzione a tutti voi, una buona giornata Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni